Ara Ricambi compie 50 anni, grande porta aperte nella sede di San Benedetto Po per celebrare un anniversario che ha visto passare tre generazioni al timone di un'azienda sempre al passo coi tempi. Per me è importantissimo per aver raggiunto questo traguardo dei 50 anni che non ci avrei mai sperato sinceramente, con le difficoltà oggi commerciali che abbiamo incontrato lungo la strada, la gente che ha cambiato, i sistemi e i metodi, però siamo sempre riusciti a cambiare, essere veloci nelle scelte, assieme a tutto quanto il mio staff che devo ringraziare pubblicamente e siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo. Qui si festeggia il 50esimo anniversario di vita dell'Ara Ricambi che esiste dal 1967, per noi è un giorno importantissimo, ringraziamo tutta la gente che è qui presente oggi e anche non che ci dà la forza e la voglia di proseguire nella nostra attività cercando sempre di migliorarci il più possibile. Speriamo anche di raggiungere il centesimo anno di anniversario con i nostri eredi. Presenti le autorità civili e politiche che hanno voluto portare i saluti e mostrare la loro stima al fondatore, ai lavoratori e alla nuova generazione. Un risultato straordinario compiere 50 anni per un'impresa, per una piccola e media impresa è un dato davvero di grande rilevanza, lo è a maggior ragione per il nostro territorio, un territorio che è cresciuto grazie al tessuto sociale e predatoriale della piccola e media impresa, tessuto del quale Dino Barbi e l'Ara Ricambi fanno pienamente parte. Quindi la politica da questa giornata deve trarre un insegnamento, continuare a proseguire e robustire le politiche di sostegno alla piccola e media impresa perché è una garanzia sostanziale della tenuta del nostro sistema economico. Quindi una bella giornata, una giornata carica di emozioni ma anche di insegnamenti. Abbiamo la dimostrazione pratica lampante di quello che con l'impegno, la perseveranza, la determinazione, la volontà e la passione può fare un imprenditore partendo dal niente e dal nulla e soprattutto il valore aggiunto è la capacità di avere continuità, di dare continuità a un solito già tracciato con il figlio Nicola che saprà essere in grado di ampliare questa attività, il fiore all'occhiello di San Benedetto dal punto di vista imprenditoriale. E allora buon compleanno a Rari Campi, altri 50 anni come questi. Grazie.